Il nome di Manu Petri De nobri di lezione e principi apostolari In direzione anduvia alla Ecclesia in Globo Arari Ad onore Dei Onipotentis e Santorum Apostolorum Petri e Paolo E te vi committimus titulum Santi Frumensi a Prata Fiscalia In nomine Patris et Filii et Spiritus In nomine Patris